Dopo il rinvio della scorsa settimana, causa maltempo, il mercatino dei ragazzi del Calcit è pronto a tornare ad invadere strade e piazze del centro storico Aretino per la 69esima edizione della manifestazione. Noi l'abbiamo rinviato domenica scorsa perché effettivamente sarebbe stato un po' troppo azzardoso cercare di forzare. Questa domenica invece c'è uno spiraglio, lo spiraglio è che la mattina non piove e noi quando la mattina possiamo aprire i banchi, anche se si arriva alle due o alle tre che poi viene qualche goccia, Diciamo che intanto il grosso dell'incasso lo abbiamo fatto, poi se viene qualche goccia la prendiamo, però la mattina possiamo lavorare, perciò domenica saremo tutti presenti e ovviamente anche tutti contenti perché insomma alla fine il mercatino è anche una giornata di festa per tutti. Almeno 250 i banchi dislocati in un chilometro e mezzo attorno alla zona Eden, a tutti i partecipanti sarà poi regalato il medaglione e la rinascita del Calcit ideato dagli studenti dell'Istituto Tecnico Professionale Margaritone. Ho notato che stanno tornando diverse scuole e anche famiglie con bambini piccolini, perciò c'è questa voglia di partecipare, insomma anche questo fatto dei bambini è chiaro che ogni tanto va ricostruito, perciò insomma io penso che il Calcit dal mercatino di domenica si riparte sperando appunto di avere una bella presenza dei bambini. Il ricavato come sempre sarà destinato al sostegno delle cure domiciliari e oncologiche del servizio scudo. Devo dire che è un servizio veramente che quando occorre le famiglie lo apprezzano tanto perché si sentono sostenute in un momento veramente difficile.